macchine partigiate, vestiva lenta all'arrivo, ma ormai qui, credo, è a 20 metri da metro, quindi tranquillamente è una grado di fronte, non ti preoccupare. Allora, ti fanno senti troppo, sono poveri, e si riempiranno, sono neanche 10, nel frattempo il calciatore è colombiano, che si è impulsito perché un motorino stava superando l'autobus, e l'oretto è un'altra cosa che è passata, inizia a marzo. Aspasare incontrollare catturazione catturazione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.